Mi sono reso conto che non ho mai fatto una build come questa nonostante fosse disponibile dal lancio di Borderlands 3 Per cui è arrivato il momento, Zombie Mose, una build basata sul lancio delle armite di ore che andranno a fare tanti 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 danni Davvero una cosa stupida Quindi, come funziona? Lo scopo principale è appunto lanciare armite di ore Ho lasciato un pochino di scelta anche se alla fine l'arma da usare è una Cioè la Needle Gun, ma vi ho lasciato anche un Everblast e una Babymaker nel caso vogliate cambiare Quello che dovrete fare sarà letteralmente andare a lanciare, fare un colpo e lanciare continuamente Potete avere quella scelta, potrete usare anche altre cose ma principalmente sono queste quelle che consiglio Ora, quando andrete a ricaricare l'arma, ovviamente se non avete dire verrà lanciata ed esploderà addosso i nemici Facendo poi l'effetto homing e alcune di queste armi avranno anche il Merv E quindi letteralmente squaglierete qualunque cosa si muova, ossia relativamente vicino a voi Contro Graveward questa build non funziona, è troppo lontano Ogni altro nemico sì Tanto per stupirvi, è una build senza Beskar, Fernal Wish, Revolter, nulla di tutto ciò È una build col Transformer Perché andremo a lanciarcelo sui piedi sto Everblast, quindi non ci farà danno Ci andrà a curare lo scudo e andrà comunque a fare danno a tutti i nemici intorno Altri oggetti in questa build? Beh, un Cat Force Launchpad Qua nell'inventario Quando finite le munizioni lo mettete, fate una schiacciata per terra, vi ridà tutti i colpi dello shotgun E lo rimettete in inventario Questo perché avete un Atelier Company Man Che vi andrà letteralmente a Riplicare il danno che farete con i lanci dello shotgun Cosa che non fa schifo Abbiamo poi una granata a casissimo Ho messo una Ringer Tanto non la usiamo mai Per cui l'ho messa lì tanto per cambiare qualcosa rispetto al solito E infine abbiamo un Blast Master Blast Master che non ce ne frega niente del suo effetto Quindi non l'ho messo per il danno bonus se non ricarico Perché ricaricheremo continuamente L'ho messo per quel più 3 sulle granate che possono fare colpi critici Così diventa un 60% Storinger già fa praticamente 900.000 danni Quando rotola contro un nemico Andiamo ad aggiungere il 60% di possibilità che faccia colpo a critico E potrete ben immaginare che 2 milioni di danno base Senza contare tutti i bonus È una cosa stupida In più tutto quello che abbiamo Ha un capienza caricatore E un danno granate Perché per chi non lo sa Il lancio Delle armi tediore Vale come danno da granata Anche quindi potrete potenziarlo con quello Come Borderlands 2 Per quanto riguarda le abilità invece Potete vedere qua È tutto abbastanza regolare Piccola nota Evitate tutto ciò che vi va ad aggiungere elementi alle armi Quindi nuvola di piombo Evitatela Dai fuoco al mondo Scaghineden Evitatelo Vendetta altruista Evitatelo Perché? Perché vi dovete lanciare sui piedi Quella tediore elettrica Se usate una di queste abilità Vi aggiungerà del danno incendiario Che vi andrà a uccidere Invece che curarvi lo scudo Per cui non prendetelo Detto ciò Ripeto Fatevi uno screenshot All'abilità Così potete vedere Dove ho messo i punti E per il resto Ho messo Orsetto di ferro Le cucciole di ferro Con Una nuke Ma tanto Non ce ne frega nulla di lui Non lo useremo praticamente Poi Livelli guardiano regolari E Chaos 11 Andiamo a testare la build Vi discordo di iscrivervi Nel caso non lo siete ancora Per non perdervi nessuna Delle prossime build Che farò Detto ciò Siamo quasi arrivati Il save file della build Sarà nel discord Link in descrizione E Occhio ai colpi Avrete circa 7 lanci Prima di dover passare A una launchpad Lo so Sono pochi Ma il danno Davvero lo giustifica Guardate che cosa Capito perché è giustificato? È una cosa vergognosa Il danno di questa build Davvero È stupidissimo Come vi ho detto prima Potete andare a usare Anche una delle altre armi Non siete obbligati A usare Quella E vedete che potete usare Letteralmente La needle gun Senza problemi E fa una marea di danno Anche la needle gun Needle gun Che vi ho messo Anche questa elettrica Così Riuscirete senza problemi A Rigenerare le munizioni E rigenerarvi lo scudo Guardate che cosa È vergognoso Sto danno Guardate che roba Davvero È una vergogna Sto danno Guardate che cosa È stupido Come vi ho detto Vi ho messo anche Una baby maker Baby maker che Però non è elettrica Quindi state attenti Vedete che la baby maker Non ne vale tanto la pena Non fa quel gran danno I migliori sono appunto Lo shotgun Per fare il danno d'aria E la stinger Se è finita terra Non è un problema A parte che potrete Lanciare letteralmente Le granate Ma voi potrete Semplicemente Andare di stinger La stinger Fa comunque danno Mi raccomando Con le granate Dovete colpire Le nemici Perché possono Passare letteralmente In mezzo alle gambe O rotolare di fianco Per cui Occhio a quello E potete comunque Lanciarle le armi Quando siete a terra Non è un problema State esaurendo i colpi E dovete rigenerare i colpi Non è un problema Guardate quanto è veloce Si mette la catwurst Launchpad Andiamo a fare Una schiacciata a terra Abbiamo già Rigenerato Tutti i colpi Perfetto Possiamo andare a rimettere Quello che ci serve E voilà Vedrete che Non avrete problemi A rigenerare munizioni O a continuare I vostri combattimenti